Amici, amici di Defconasis, benvenuti. Vi starete chiedendo cosa devo sapere, quali sono le modifiche della seconda edizione. Per voi i Defconasis hanno raccolto le 10 cose da sapere più importanti sulla seconda edizione e le vediamo subito. E partiamo subito col primo punto, il sistema di conversione, la cosa più importante. Quando uscirà la seconda edizione, il 13 settembre, avrete a disposizione un nuovo kit base e tre conversion kit che convertono subito tutte le navi della prima edizione. Uno per i Rebelli, uno per l'Impero Galattico e uno per gli Scam. Saranno le prime tre fazioni, usciranno in seguito Primordine e Resistenza e poi Repubblica e Separatisti. Cosa cambia? Cambiano tutte le meccaniche del gioco, hanno rivisitato tutto, hanno revisionato i poteri piloti, hanno revisionato i dial, hanno revisionato gli upgrade, ci sarà un nuovo mazzo danni. E questa è la prima cosa da sapere, quindi kit di conversione, pronto, sbustate, prendete le vostre navi vecchie, le convertite e siete pronti per giocare. Secondo punto, ci sarà una nuova app ufficiale, uno squad builder di Fantasy Flight che vi permetterà di costruire le vostre liste, di costruire i vostri squadroni. Con questa applicazione arriva un, a mio avviso, gradito miglioramento. I punti dei piloti, quindi il costo dei piloti e il costo degli upgrade, nonché gli slot disponibili per ogni nave dell'universo di X-Wing, saranno gestiti direttamente dall'app. Infatti, come vedete, sulle carte non c'è scritto né quanto costa un pilota, né quali upgrade può montare. Quindi tutto ciò si tradurrà, speriamo, in una gestione dinamica durante l'anno, con frequenti correzioni da parte di Fantasy Flight. Altro miglioramento, altra modifica in realtà, che invece che costruire squadriglie a 100 punti, nella seconda edizione si giocherà a 200 punti. Però, non pensate di schierare più di tante navi, in realtà il costo è generalmente raddoppiato. Quindi se una nave prima costava 20 punti, ora a grandi linee ne costerà 40. Terzo punto, non ci saranno più le torrette a 360 gradi. Quindi nessuna nave tirerà a 360 gradi. Le navi dotate di torrette presenteranno, tipo il Lancer della prima edizione, un indicatore bidirezionale ruotabile o monodirezionale. Come vedete qua sopra c'è la basetta di Han Solo sul Falcon e il Falcon presenta una torretta che può sparare o a sinistra-destra o avanti-dietro e può ruotare. Quando le navi possiedono una torretta, guadagnano anche l'azione di rotazione degli archi. Anche nel caso in cui una torretta viene comprata come una torretta ionica, vi fornirà anche alla nave l'azione di rotazione degli archi. Una nuova grande introduzione, punto 4, le navi medie. Quindi non ci saranno più solo le navi piccole e le navi grandi, ma ci sarà una via di mezzo. Una nave la cui basetta ha una dimensione pari a una volta e mezzo quella della basetta piccola. Quindi sarà esattamente a metà strada fra la nave piccola e la nave grande. Chi diventa una nave media nella seconda edizione? Per i ribelli, l'U-Wing, l'Ala Cup e l'Arc 170. Per gli imperiali, il Punisher e il Reaper. Per gli scami, il Firespray, il Chemogila, il Mist Hunter, l'Aggressor e lo Skurg. Punto 5, viene introdotta la forza. La forza sarà una caratteristica dei piloti force user, quindi utilizzatori di forza come esempio Luke Skywalker o Darth Vader. Ogni nave presenterà direttamente sulla carta dei punti forza, che generalmente si ricaricano di uno a turno. Come uso base, la forza permette di girare un dado che ha fatto Hawking colpito o schivato, a seconda se sia in attacco o in difesa. In più, altri usi dipendono dal potere del singolo pilota, ad esempio quello di Vader che gli permette di fare azioni ulteriori al costo di un punto forza, oppure dalle carte upgrade di pofforza, come ad esempio riflessi soprannaturali e sense. Punto 6, ci sarà una nuova fase, la fase di dispositivi che si mette fra la pianificazione, quindi quando assegnate i DAI alle nave, e prima che ogni nave sia attivi. Quindi una fase transitoria, fondamentalmente serve per attivare i dispositivi delle navi, come le bombe o ad esempio i sistemi di occultamento. Quindi, nella nuova edizione, le bombe fondamentalmente si sganciano prima del movimento. Punto 7, barra delle azioni da 2.0. Non ci sarà più, oltre al limite, o push del limite che dir si voglia, quindi sarà molto più difficile fare molte azioni per turno. Tuttavia, le navi, alcune navi, hanno direttamente nella barra delle azioni, le azioni concatenate, cioè azioni che è possibile fare di seguito. Inoltre, ci saranno azioni di tipo rosse, che causano stress. Ad esempio, le azioni concatenate, ad esempio quella di Marek Steel che vedete, permette di fare focus seguito da un barrel roll rosso. Quando lo fate, potete fare semplicemente il focus, oppure fare focus e barrel roll e prendere uno stress. O ad esempio, ci sono azioni semplicemente che sono molto difficili per la nave. Per quella alla Y, ad esempio, l'azione di barrel roll è un'azione molto difficile, quindi sarà rossa. Le azioni cambiano anche, lo vediamo nel punto 8, ci sarà un nuovo barrel roll e un nuovo calculate. Il barrel roll funzionerà in maniera un po' meno libera, quindi sarà possibile fare, sia per le navi piccole che per le navi medie e per le navi grandi, il barrel roll sempre partendo dal centro della basetta che è indicato con una tac e sarà possibile fare, quindi, centro-fronte, centro-centro o centro-retro. Si aggiunge inoltre un'azione di calculate, che è una sorta di focus per i droidi. I calculate lo avranno solo i droidi. I calculate è un focus limitato e è possibile girare solo un occhio in un risultato utile. Però i droidi, abbiamo già visto, che saranno in grado di fare molti più calculate di un semplice focus. Aggiungiamo anche che nella nuova edizione, se si perde l'azione, se si è impossibilitati, dopo averlo dichiarato, ad effettuare un barrel roll, un target lock o un boost. Quindi se dichiarate un barrel roll sulla destra e non ci state, l'azione sarà persa. Se dichiarate un target lock e non ci sarà nessuna nave, entro 3, dalla vostra nave che ha dichiarato target lock, lo perderete. Fantasy Flight ha deciso anche di determinare in maniera più univoca i colori dei token. E quindi hanno definito 4 categorie di token, che si dividono fra effetto positivo e effetto negativo, e eliminati a fine turno e mantenuti a fine turno. I token verdi circolari, come ad esempio il focus, il calculate, le vede e il reinforce, sono effetti positivi che si eliminano alla fine del turno. Il clock, invece, è un effetto positivo che si mantiene a fine turno. Effetti negativi che si eliminano a fine turno, invece, sono i token arancioni, che sono il disarm, il gem e il tractor. Mentre effetti negativi che si mantengono a fine turno sono i token rettangolari rossi, come lo stress, lo ione e il lock. Nuovo mazzo danni. Nel nuovo mazzo danni è stato ridisegnato completamente, ci sono critici meno devastanti, perché sarà più semplice avere critici, perché comunque in generale le navi avranno più scafi che scudi. Ci sono solo 5 carte danno, doppio, e in più non ci sono i critici quelli che facevano veramente paura nella prima edizione, come ad esempio l'APS-0 del pilota, oppure il critico che impediva le azioni. Bene, per questo è tutto, se volete continuare a seguirci per avere nuove informazioni e vedere nuovi match sulla seconda edizione di Star Wars, noi Defcon la seguiremo in maniera assolutamente puntuale, quindi seguiteci sui nostri canali YouTube, sulla nostra pagina Facebook, Defcon Aces. Grazie di tutto e alla prossima, ciao!